e ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale oggi ragazzi siamo in questo nuovo video di sbusta boxing perchè c'è lo sbustamento e questo unboxing in questo video dove abbiamo qua gli ultimi anche acquisti effettuati con due kit pre-release di evoluzioni terre dove ne andremo ad aprire per esattezza solo uno e l'altro lo lasceremo aperto e poi la rivista pokemon magazine ufficiale con due pacchettini che anche qui ne apriamo solo uno è dovuto ragazzi guardate chi c'è il federic nazionale con i suoi miliardi di carte da quanto so c'è anche l'intervista però ovviamente mi interessava per le due carte all'interno ragazzi e diciamo che iniziamo subito mi sa che qua non facciamo tagli perchè tanto sarà veramente corto il video andiamo subito a sbustare la rivista che poi andrò a leggermi per bene con calma qui c'è un po' di pubblicità sul retro ovviamente delle altre riviste questa ragazzi è una rivista veramente corta però va bene la mettiamo pure qui un po' come sfondo ragazzi e qui abbiamo le nostre due bustine diciamo promozionali di evoluzioni etere come vedete esattamente identiche ragazzi quindi andiamo subito ad aprire una bustina vediamo cosa troviamo di bello so che non si trova teoricamente niente perchè sono solo tre carte magari saranno anche i loro tre che troviamo qua davanti vediamo subito ragazzi cosa si ceda in questo pacchettino che ovviamente non siamo neanche riusciti a tenere così bene però fa niente e andiamo a svelare le carte mettiamo anche qui il pacchettino censuriamo Federic abbiamo Eevee abbiamo Timeball abbiamo Bago un bello Reverse e ti serve aiuto per giocare? se hai bisogno bla 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 e bla 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 un piccolo manoletto con un po' di pubblicità ragazzi anche Diamante per la Splendente e tutte pubblicità varie quindi niente di che ragazzi mettiamo pure tutto lì le nostre cartine belle qua e ragazzi questa però è molto bella con questo Eevee che guarda Rayquaza questo veramente mi piace anche se Rayquaza mi sa che non lo troviamo e ragazzi direi che possiamo andare ad aprire il nostro box di sfida strategica questo è come si presenta con il grande Rayquaza davanti questa è la sua parte superiore questa è la parte inferiore questi i due lati e questo è il retro dove troviamo il buon Umbreon ragazzi e vediamo che cosa si può andare a trovare in questo in questo piccolo settino chiamiamolo anche se dietro c'è già scritto cosa si trova vediamo se riusciamo ad aprirlo ragazzi e cioè che qua facciamo un bel taglio ok ragazzi eccoci qui nuovo il taglio almeno ho preso le forbici questo è il box chiamiamolo come si presenta senza la plastica almeno è un pochettino rovinato questo nonostante era nel box nuovo dove l'ho preso sempre nel solito negozietto quindi togliamo la carta protettiva e andiamo ad aprire un po' questo portamazzo e vediamo ragazzi cosa si ceda abbiamo un bel po' di carte qua abbiamo istruzioni tipo sempre cose comunque promozionali ah ok qua c'è proprio tutto l'elenco delle carte anche se mi sembrano un po' poche qui c'è tutta istruzioni costruzione per il mazzo prova che ovviamente a noi non ci interessa in quanto non giochiamo con le carte ma le collezioniamo per pure collezionismo collezionistico ovviamente cose dette stupidamente e ragazzi uh uh bellissimo abbiamo Moltres evoluzione terre bello speravamo infatti trovare uno di uccelli leggendari ho previsto Zapto sorti uno però va bene anche Moltres qua abbiamo il codice questo lo lasciamo intanto sigillato poi vedrò se aprirlo ragazzi e poi abbiamo per l'esattezza quattro bustine esatto e questo alla fine è pratico portamazzo che mettiamo pure qua abbiamo queste bustine di raiquaza sylveon umbron e duralondon duralondon se non ricordo male il nome e iniziamo subito ragazzi dai prendiamo queste bustine speriamo di essere fortunati e che il grande capo di pokemon ce la mandi buona subito con il primo pacchettino arcocane non si è aperto in modo super adeguato però fa niente ragazzi ok cerchiamo di tenere lo stesso le bustine mettiamole intanto di lì però dice non ve lo faccio vedere mi sono spoilerato mi sa tutte le carte e mi sembra che non ci sia nulla quindi buona la prima come al solito trichettino magico ragazzi e andiamo subito a vedere energia poi abbiamo fluette guanti di gomma tentacruel seedot pikachu grande pikachu tentacool fletching hitmonchan bellino hitmonchan suavebe reverse e apple 2 questo super pokemon alitoso normale ebbene ragazzi primo pacchettino come al solito grande soddisfazione umbron portaci fortuna andiamo subito con te sperando che tu ce la porti buona magari di più rispetto al pacchetto di prima ma con la fortuna solita non sarà così probabilmente subito ragazzi rimuovere rimuovere le carte mannaggia ok i miei pacchetti qua non si riescono a tenere benissimo però noi ci accontentiamo codicino lo mettiamo di là andiamo a fare il nostro tricchettino che ovviamente non ci porterà a nulla ma noi ci speriamo abbiamo questa energia vigorot ipno con questo super artwork difesa integrale cutifly ivy di nuovo bello questo artwork con ray quadro in alto litleo time pole di nuovo che abbiamo trovato in quel pacchettino da tre hippopotas rooflet reverse altaria normale neanche olu bene ragazzi due pacchetti su due niente andiamo con il nostro sylvia quindi caro sylvietto portaci fortuna e tireremo tanti bei croccantini se li mangi oppure un panino al mech ovviamente ho detto mech apposta ragazzi perché ci sono le carte pokemon al mech quando io sto sbustando e anche quello penso che vi porterò un bel video di della raccolta fatta con queste carte del mech e vedremo andiamo subito con il tricchettino sperando ovviamente di riuscire a finire il set delle holo ma lo scopriremo più avanti abbiamo subito queste energie ragazzi skyplume vigora di nuovo ipno di nuovo emolga che mi sembra non avevano trovato caravagna bergmite nikit sablaia uno stoutland reverse e marshado holo la prima holo che però ovviamente non mi interessa iniziali ragazzi non vi posso neanche fare un recap alla fine perché non è stato trovato nulla di che però vabbè spero in quest'ultimo pacchettino di raiquaza e però vedo vedo qualcosa ragazzi vedo qualcosa quindi già dal pacchetto coperto quindi almeno qua è andata bene abbiamo già il nostro bacon 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 o bacon tra virgolette quindi codicino non nascondiamo chissà che carta sarà non sarà neanche ruvida deduco però andiamo subito ragazzi a scoprirlo e vediamo insieme abbiamo energia terra ragazzi hippo down grinta di liris dream wall bagon lillipop sidot pikachu tentacle shagon reverse e e e e dovrebbe essere una v normale volcarona v mannaggia che già avevo trovato in giapponese però vabbè almeno ragazzi abbiamo trovato una v anche perfettissima perché ovviamente in italia le carte escono un po' con il sederino però dai almeno una v ragazzi c'è andata bene c'è andata male probabilmente facevo prima tenere chiuso il pacchetto magari più avanti ne prenderò altre di queste sfide strategiche di questi kit per il raise chi lo sa io ragazzi intanto spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua sotto al video ovviamente condividere il video con i vostri amici se ancora non l'avete fatto commentare con qualche suggerimento parere o magari con cosa avete trovato voi rispetto alla mia fortuna ovviamente iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto leggere anche la descrizione con i canali e i link che vi suggerisco e noi ci vediamo alla prossima con un altro video io vi saluto e ciao 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 ciao